Uruk, situata nella Mesopotamia meridionale, è un'antica città dei Sumeri e successivamente dei Babilonesi. Nel IV millennio anno corrente, il piccolo insediamento divenne una vera e propria città, la prima per cui sia possibile utilizzare questo termine. Uruk si trova oggi a est del fiume Efrate, in una regione paludosa a circa 230 chilometri a sud-est di Baghdad. Durante il suo momento di massimo splendore, Uruk contava una popolazione di circa 80.000 abitanti che vivevano in 6 chilometri quadrati racchiusi da una doppia cinta di mura lunga 10 chilometri, rappresentando la più grande e popolosa città del mondo, oltre che una delle più antiche nella storia dell'uomo. Questo sito comprendeva un insediamento urbano, templi, piattaforme, zigurate e cimiteri racchiusi in una rampa di fortificazione di quasi 10 chilometri di circonferenza. Uruk è anche famosa per essere stata la città dello storico regilgame, eroe della famosa epopea. Le mura di Uruk si dice fossero state costruite proprio da questore, oppure dal suo predecessore Emmerkar, che fece anche costruire il famoso Tempio di Eanna, dedicato al culto di Nanna e Star. L'origine della città sembra derivare da due primi insediamenti, successivamente conosciuti come Cullab ed Eanna. Cullab era l'area dedicata al dio maggiore del Pantheon, Anu, mentre nelle Eanna vi erano i templi associati al culto della dea dell'amore e della guerra, in Eanna. In breve, Uruk è un luogo di grande importanza storica e culturale, testimone di una civiltà antica che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità. Ad Uruk, due delle principali divinità venerate erano Inanna e Anu. Inanna, nota anche come Ishtar, era la dea dell'amore, della vegetazione e della guerra. Il suo tempio, Leanna, era un importante centro religioso. Anu, il dio del cielo, aveva uno zigurat sormontato dal cosiddetto Tempio Bianco. Questi luoghi di culto rappresentavano l'essenza spirituale e la ricchezza della città. Le festività religiose a Uruk, erano eventi di grande importanza e coinvolgevano tutta la comunità. Ecco alcune informazioni su come venivano organizzate. Festività del Tempio di Anna dedicato a Inanna. Queste celebrazioni si svolgevano nel Tempio di Inanna, la dea dell'amore e della guerra. Durante queste festività, i sacerdoti e le sacerdotesse eseguivano rituali, offrivano sacrifici e partecipavano a processioni. La popolazione si univa alle celebrazioni, rendendo omaggio alla dea e partecipando a banchetti e danze.festività agricole. Uruk era una città agricola, e le festività legate al ciclo agricolo erano importanti. Ad esempio, c'erano festività per la semina, la mietitura e la raccolta dei raccolti. Questi eventi coinvolgevano preghiere, danze e offerte agli dei per garantire buoni raccolti. Festività del Tempio di Anu dedicato a Anu, il Tempio Bianco di Anu era un altro importante centro religioso. Le festività qui coinvolgevano cerimonie di purificazione, offerte e processioni. Anche qui, la comunità partecipava attivamente. Festività stagionali, Uruk aveva festività legate alle stagioni, come l'equinozio di primavera o il solstizio d'estate. Questi eventi celebravano il ciclo naturale e l'interazione tra gli dei e gli esseri umani. Festività personali, oltre alle celebrazioni pubbliche. Le famiglie e gli individui potevano organizzare feste private per onorare specifici dei o per segnare eventi. Importanti come matrimoni o nascite e punto in generale, queste festività coinvolgevano preghiere, offerte, canti, danze e partecipazione attiva della comunità. Erano momenti di gioia, gratitudine e spiritualità per gli abitanti di Uruk.